Ciao, io sono Cristina. Faccio la consulente turistica e anche l'animatrice. Sono nata a Milano e vivo a Gorgonzola da un po' di anni. Mi piace molto viaggiare, sono anche molto molto curiosa. Mi piace conoscere la storia, le abitudini, la cultura, le tradizioni e poi chiaramente condividerle con gli altri. La storia che vi propongo è ambientata nei primi decenni del 1800. La Marchesa Serbelloni vuole promuoverle Gorgonzola presso i suoi amici nobili. Perciò ordina un sontuoso banchetto, tutto a base di Gorgonzola. Ma il cuoco non ce la fa da solo a preparare per tutte quelle persone e quindi cerca degli aiutanti e gli aiutanti sono i partecipanti appunto. La storia è rivolta a chi come me è appassionato di storie, leggende e tradizioni. Infatti io, che sarò a Ginevra, la governante, farò conoscere il borgo ai nuovi aiutanti. Racconterò loro dell'origine del Gorgonzola, quella vera e quella leggendaria naturalmente e tanti tanti aneddoti storici sulla famiglia Serbelloni. È rivolta anche a tutti gli appassionati di cucina e amanti del Gorgonzola perché il nostro cuoco Salvatore nella sua scuola di cucina insegnerà a preparare un menù completo dall'antipasto al dolce, tutto a base di Gorgonzola che poi naturalmente mangeremo. I partecipanti quindi impareranno delle nuove ricette che porteranno poi a casa e proveranno a rifare. Vuoi vivere con me questa esperienza? Sarà unica, memorabile e irrepetibile, come tutte le storie artesse. Allora prenota questo palinsesto, ti aspetto a Gorgonzola. Allora prenota questo palinsesto, ti aspetto a Gorgonzola.